Perché il tempo e il mondo non aspettano. Il cambiamento è la legge della vita. Chi guarda solo al passato o al presente, mancherà l'appuntamento col futuro. Ho detto, mancherà l'appuntamento col futuro. Ponio, l'ho mancato! Primo Ministro Castro, la crisi dei missili è stata l'ultima goccia. Ci siamo quasi autodistrutti. Vi abbiamo invitati qui oggi in buona fede. Per risolvere la situazione. E lui? Che ci fa qui? Ha perso! Come dico sempre, perdona i nemici, ma non dimenticare i loro nomi. Ora, signori, mi piace pensare che, nella lunga storia del mondo, solo poche generazioni... Sembra che qualcuno stia irrompendo! È solo la tempesta, Dick. Siediti. Oh mio Dio! Signor Presidente, qualcuno è penetrato nel Pentagono. Zombie, signori, è in momenti come questi che dobbiamo esprimere la nostra capacità di reagire per scoraggiare qualsiasi forma di aggressione. Signori, caricate le armi. Viva la rivoluzione! Signor Presidente, ho un ultimo discorso? Suggeriscimi qualcosa di grandioso che possa ispirare le tue povere truppe. Amici miei, non pregate di ottenere una vita facile. Pregate piuttosto di essere forti.